Sindaco, una protesta dei cittadini, si lamentano che avete staccato la luce e che i bambini sono rimasti al freddo? Enel ha staccato la luce perché erano collegati illegalmente e abusivamente a un contatore che il Comune di Crotone paga regolarmente. Così come tutti i cittadini crotonesi sono allacciati regolarmente a un contatore e pagano la corrente elettrica, non vedo perché anche queste persone che probabilmente occupano anche illegalmente delle abitazioni debbano usufruire di questo servizio a carico degli altri cittadini. Perché non li avete avvertiti prima di far staccare la luce? Non è una questione di avvertimento, noi abbiamo scoperto che lì c'erano e abbiamo altre utenze anomale dove non avevamo servizi comunali e pagavamo l'energia elettrica. Qui ci troviamo al paradosso, è come se uno dovesse avvertire a uno che sta facendo un atto delinquenziale, lo deve avvertire di che? Questi dovevano essere arrestati in flagranza di reato, queste sono cose gravissime, ma come si fa a venire a fare una protesta perché è stato staccato un allaccio illegale e abusivo? Ma vogliamo scherzare? È un quartiere che si sente abbandonato comunque dal Comune? Guardi, sugli alloggi di edilizia popolare c'è una situazione critica, molto critica, ma il problema è che c'è un'illegalità diffusa che ha percentuali impressionanti. Bisognerebbe mettere mano anche a questi alloggi di edilizia popolare perché poi mi ritrovo in una situazione in cui viene della gente disperata che ha effettivamente bisogno di un alloggio e noi non siamo nelle condizioni di poterla assegnare perché ci sono anche i furbetti degli alloggi di edilizia popolare, quindi può piacere o non può piacere, ma poi chi ha bisogno di un alloggio siamo nelle condizioni di non poter soddisfare la richiesta. Guardate, ma qui cerchiamo di chiarire un aspetto fondamentale. Un aspetto fondamentale. Al di là dei bisogni e delle necessità individuali perché mezza crotone vive situazioni di disagio economico. Qui ci ritroviamo in una situazione paradossale dove queste persone erano allacciate abusivamente a un contatore che il comune pagava l'energia elettrica. Quindi se oltre a fornire le case, gli alloggi di edilizia popolare e che praticamente non paga quasi nessuno, dobbiamo fornire anche l'energia elettrica. Ditemi un po' voi in che situazione ci troviamo.